Cazzo ragazzi, oggi ho avuto una giornata veramente ma veramente di merda. Stavo guardandomi una puntata di Art Attack, quel programma del cazzo condotto dal pappone di disegni Giovanni Mucciaccia, quello stesso Mucciaccia che balla come una Mucciacciaccia, quando all'improvviso mi è piombato in casa quella palla di merda di burger. Hey Dwayne, mi disse, ho visto che anche tu sei fan di Art Attack, posso mostrarti anch'io qualcosa. All'inizio volevo cacciarlo a calci nel suo merdosissimo culo, ma poi mi sono accorto che avrei offeso il Mucciaccio Mangiacaccio e diedi una possibilità a quella faccia di merda. Lui mi disse e vai un attimo fuori di casa, mi serve spazio per lavorare e io, per l'amore del programma, accettai. Quando uscì mi chiese di rientrare e il risultato che io vidi fu un enorme ma soprattutto immondo ammasso di merda, liquida che inondava la casa, che burger aveva prodotto presumibilmente dal suo lurido buco del culo, oltre al frigo vuoto e il soggiorno devastato. Che figlio di puttana!